Arrivare in Belgio con una squadra di calcio, arrivare in Belgio con il Cagliari, con una bandiera, quella sarda, in un paese dove sono morti migliaia di sardi dentro le miniere, morti di fame talvolta per le condizioni in cui vivevano, morti di silicosi quando riuscivano a morire di incidenti all'interno delle miniere. Arrivare in Belgio con la bandiera sarda e poter battere il Belgio o comunque in quel caso il Marim per 3-1 non ha prezzo. Se puoi assegnare sono Gianfranco Matteoli e Vittorio Pugeddu, in particolare questo secondo, cresciuto a Bugerru, dove è sorto il primo sindacato, dove sono stati sparati gli operai, dove le miniere sono state la ragione della nascita del paese stesso. Ecco, vincere con questi giocatori, vincere con questa squadra è significato qualcosa che non può essere cancellato. Forse ancora oggi non tutti hanno capito quanto vale il 3-1 a Marim. Grazie